Buongiorno a tutti e tutti, l'inaugurazione della stagione è un momento molto importante per la città, io sono qui rappresentanza della sindaca Chiara Pendino che non ha potuto essere qui con noi e il primo appuntamento è particolarmente emozionante come l'inizio di ogni stagione, io non voglio dire tantissimo perché è un titolo che parla quasi da solo con una regia, una condizione di orchestra importanti ed è l'inizio di una stagione che speriamo venga accolta dal pubblico con favore, il nostro obiettivo è lavorare per far crescere il nostro teatro regio nella sua capacità di fare musica, nella sua capacità di coinvolgere il pubblico della città e anche il pubblico che viene da fuori città, per cui è emozionante trovarsi qui oggi per annunciare questa prima grande opera, io ringrazio tutto il teatro, ringrazio signor intendente, ringrazio moltissimo Intesa San Paolo, socio fondatore della fondazione Teatro Regio che tradizionalmente accompagna la prima della stagione, quindi grazie davvero a tutti quanti, non tolgo tempo alle parole e al racconto di questo nuovo trovatore, grazie. Grazie